L'argia, la dipinta, la tarantola, il calabrone, lo scorpione, il moscone, Dio lo maledica. Comare argia, comare argia mia, non fate del male alla persona mia, non fate del male alla mia persona. Vi narrerò poesie e canzoni, poesie e canzoni di ogni genere. Comare argia, comare argia mia. Il brebus che hai appena ascoltato si rivolge direttamente a un piccolo animale molto temuto e pericoloso a cui è legato un interessante, complesso e affascinante rituale esorcistico. Forse se sei una persona che soffre di arachnofobia potresti un po' soffrire questa storia, ma ti garantisco che potrai scoprire però un evento non comune e intriso di fascino. No ti immasa! Accomodati vicino al fuoco e preparati ad una nuova storia. Stai ascoltando Contus de Forredda, il podcast per scoprire leggende, folclore, rituali e luoghi della Sardegna. Io sono Mattia e oggi ti parlerò di ragni velenosi e movimentati rituali esorcistici. Affrontiamo subito il tema spinoso, soprattutto per chi ha problemi con l'arachnofobia. La protagonista di oggi infatti è un piccolo essere animale che vive in alcune aree del sud Europa e che ha la fama di essere la vedova nera del Mediterraneo e che viene anche chiamata come il ragno del diavolo. Il suo difficilissimo nome scientifico è Latrodectus Tredecimgutatus, ma nel linguaggio comune è conosciuta come Malmignatta. Nello specifico, in Sardegna, è chiamata Argia, che significherebbe proprio variopinta. L'Argia è un piccolo ragno. L'esemplare femmina arriva fino a 15 mm e tutta di colore nero con caratteristiche macchie rosse. La Malmignatta è un ragno molto velenoso e il suo piccolo morso, soprattutto in passato, poteva addirittura essere letale. L'Argia vive principalmente nella macchia mediterranea, nelle pinete, nei moretti a secco tipici delle campagne sarde. Il suo pericoloso attacco avviene prevalentemente durante i mesi estivi in occasione proprio del periodo in cui il lavoro dei campi è maggiore. Secondo la tradizione, la preda del morso dell'Argia erano proprio il numero maggiore gli uomini, che lavoravano nei campi e che potevano dunque entrare più facilmente in contatto con l'habitat della Malmignatta. Il veleno di questo piccolo ragno, nonostante i malesseri che provoca, solo in pochi casi è stato causa di morte. Sicuramente i soggetti più a rischio per effetti nefasti sono i bambini, gli anziani e gli adulti debilitati. Oggi, grazie alla medicina, soprattutto con cure somministrate in tempi molto brevi, si riesce a gestire e ad arginare qualsiasi pericolo legato al veleno dell'Argia. In passato, invece, per curare il sospetto morso del ragno del diavolo, esistevano veri e propri rituali, che coinvolgevano parecchie persone e che avevano lo scopo di distrarre il morsicato, con balli e canti. L'Argia, in passato, era parecchio diffusa in tutta la Sardegna. Per un periodo è stata considerata estinta, ma negli ultimi anni ci sono stati degli avvistamenti che ne hanno attestato ancora la sua presenza sull'isola. Ovviamente, a causa del suo potente veleno, l'Argia in passato era molto temuta e poteva essere un rischio concreto in grado di mettere in difficoltà non solo la vita del malcapitato, che veniva morsicato, ma la vita di tutta la comunità. Mi rivolgerò al ragno spesso con il femminile, perché il morso della femmina dell'Argia era quello considerato più pericoloso e letale. E perché, nelle tradizioni che ti racconterò, l'animale è sempre considerato femmina. Il morso di questa vedova nera mediterranea, in sé, non è doloroso. Spesso capitava infatti di essere morsicati senza accorgersene. Dopo circa un'ora, però, con il veleno in circolo nel sangue, iniziavano a manifestarsi i primi spaventosi sintomi. Malessere generale diffuso, accompagnato da febbre alta e sudorazione, dolori addominali, tremori, conati di vomito, nausea. Si potevano verificare inoltre movimenti compulsivi e spasmi, simili a quelli che caratterizzano gli attacchi epilettici. Per non farsi mancare nulla, ovviamente, si aggiungevano anche allucinazioni, ansia e depressione. La piccola argia era quindi in grado di trasformare l'esistenza del malcapitato morsicato in un vero e proprio incubo. Dal momento in cui comparivano i sintomi e ci si rendeva conto che la causa del malessere era il morso dell'argia o si imputava il malessere al ragno, il malato veniva chiamato argiato. È interessante tenere in considerazione che alcuni sintomi causati dal veleno di questo ragno che ti ho appena menzionato sono simili a quelli della possessione diabolica. L'argiato, infatti, veniva considerato posseduto da forze maligne di spiriti nefasti. L'argia era considerata incarnazione terrena di anime penitenti, rendendo la malattia non solo qualcosa di fisico e materiale, ma anche spirituale e ultraterreno. Secondo alcune leggende, infatti, le arge non sarebbero altro che anime cattive, che furono trasformate in ragni perché il giorno del Corpus Domini, durante la processione, si rifiutarono di fare omaggi al Cristo. Per vendetta di questa loro trasformazione iniziarono a mordere gli umani con un morso molto pericoloso. Per combattere questi influssi malefici e la malattia stessa causata dal morso dell'argia partecipava l'intera comunità. I rituali collettivi erano caratteristica delle società passate, il cui insenso di insieme sociale era molto forte. Oggi il tutto è stato sorpassato da un sempre maggiore individualismo che disgrega il tessuto sociale, rendendo i singoli individui unità solitarie. Questo ha fatto scomparire molti rituali, pensiamo a quelli legati alla morte e alla perdita, facendo emergere tutta una serie di problematiche legate per esempio all'elaborazione del lutto, che prima, invece, avevano validi strumenti di supporto e che ora lasciano i dolenti inermi e solitari davanti al dolore. Il rituale esorcistico dell'argia rientrava proprio nell'insieme di rituali collettivi che servivano a curare, guarire e supportare il malato e la sua famiglia e a reintegrarlo all'interno del tessuto sociale. Inoltre, la presenza di un malato all'interno di una comunità agricola poteva essere pericoloso per il sostentamento e per il lavoro nei campi, causando inevitabili ricadute negative su tutti i componenti della comunità stessa. Proprio per questo motivo, il benessere del singolo era importante per tutti ed è facile comprendere perché ci fosse una partecipazione così attiva da parte di tutta la comunità. Il rituale esorcistico protagonista di questo episodio era complesso e articolato e ne esistevano differenti versioni che cambiavano in base alle zone in cui il rituale veniva praticato. La prima cosa che però bisognava fare era quella di scoprire la natura dell'argia. Come ti ho detto prima, l'esemplare più pericoloso era la femmina perché aveva il veleno più potente e per questo l'argia era sempre considerata di sesso femminile. Poteva essere di tre tipologie, nubile, sposata e vedova. In alcune zone c'erano anche altre sfumature di argia. Era importante però scoprire lo stato civile del ragno perché in base a questo si utilizzavano determinati canti e balli. L'indagine per scoprire la natura dell'argia poteva essere condotta in vari modi. Poteva essere condotta come un interrogatorio, in questo caso veniva incaricata una persona vicina all'argiato che avesse confidenza con la vittima, che tramite appunto un dialogo, tramite formule recitate in rima, cercava di scoprire la natura dell'argia mentre suoni e balli facevano da sfondo. Per fare questo interrogatorio però bisognava essere spavaldi e non dimostrare nessuna paura nei confronti dell'argia. Come vedi già da questa prima descrizione l'argiato veniva proprio considerato posseduto dall'argia. In altre testimonianze invece emerge fin da subito l'importanza della società anche nel momento investigativo. Tutto il gruppo sociale cercava infatti di interrogare l'argiato e di interpretarne i segni. Danzavano così intorno a lui gruppi di donne di differenti stati sociali, prima le nubili, poi le spose e poi le vedove. Queste potevano essere in differenti formazioni, tre nubili, tre sposate e tre vedove o sette nubili, sette sposate e sette vedove. E in base alla reazione del malato si individuava lo stato dell'argia. Il numero delle donne danzanti del loro stato civile era anche importante in alcune tradizioni per calcolare il tempo. Infatti ogni donna rappresentava una fase lunare e in alcuni casi questo veniva utilizzato per calcolare il tempo di guarigione del malato. Un altro modo per iniziare il rituale era quello di far visitare l'argiato da tre donne, sempre con differente stato civile, quindi una nubile, una sposata e una vedova. E queste avevano lo scopo di far ridere il malato con balli strani, spesso anche osceni, cantando filastroche umoristiche volgari oltraggiose e compiendo gesti buffi o inaspettati. In altre parti dell'isola le donne si disponevano a cerchi intorno al malato e cantavano accompagnandosi con il fruscio prodotto da setacci per la farina fatti scorrere su telai di legno. In altre zone ancora i rituali avevano una connotazione più scenografica e forse anche un pochettino più violenta. L'argiato infatti era chiuso fino al collo dentro un sacco, veniva così calato in una fossa scavata nel terreno e coperto di letame. Rimaneva esposta dunque solo la testa, intorno alla quale danciavano le donne sempre in formazione divise in base al loro stato civile, quindi sette nubili, sette spose e sette vedove oppure tre nubili, tre spose e tre vedove. Nel caso in cui veniva utilizzata la formazione a tre, le donne dovevano chiamarsi tutte con lo stesso nome. Queste coreografie con anche l'utilizzo di formule in rima avevano lo scopo di suscitare delle reazioni da parte dell'argiato. Per far sì che il malato reagisse, le donne potevano anche sputare sulla vittima, insultarlo, con lo scopo sempre di provocare qualche utile reazione, che poteva così svelare l'identità dell'argia colpevole della malattia. La danza poteva essere accompagnata sia dall'uso di campanacci, che avevano lo scopo di scacciare gli spiriti maligni, ma era spesso accompagnata dalla musica delle launendas o della fisarmonica. Il ritmo del ballo e della musica era concitato e seguiva gli eventuali spasmi e i movimenti convulsi del malato che diventava così quasi il direttore delle danze. In un altro rituale invece l'argiato era chiuso in un forno ancora caldo fino al collo. Veniva circondato da persone che con bagli e canti esorcistici tenevano in mano torce accese. Quando si riteneva che il malato fosse stato abbastanza esposto al caldo lo si toglieva e si aspettava la guarigione o la sua morte. Altri rituali invece prevedevano che l'argiato si vestisse con gli abiti dei differenti stati civili e sociali per scoprire quello preferito dall'argia. Venivano fatti indossare abiti femminili da nubile, da sposa e da vedova fino a quando un abito non era più rifiutato e questo era interpretato come segnale di riconoscimento dello stato dell'argia. Così abbigliato l'argiato doveva anche simulare attività tipiche femminili e riportata ad esempio la simulazione del parto, la simulazione dell'atto di allattare o di collare un infante o addirittura potevano essere previste pantomime erotiche. Con tale abbigliamento l'argiato doveva stare per tre giorni durata del rituale esorcistico che serviva a risanare completamente il malato. In questi casi la vittima diventava proprio l'argia e poteva avanzare richieste anche assurde e sfrenate e condurre in rituali per balli e feste. Riportando brevemente questi rituali complessi molto diversi tra loro anche e articolati notiamo subito che l'evento drammatico della malattia veniva ribaltato in un evento in un'occasione per festeggiare in modo carnevalesco e anche per unire la comunità. Questo in parte perché nella tradizione l'argia era considerato uno spirito amante del ballo e della festa e il rituale così festoso aveva infatti il doppio compito di intrattenere e soddisfare l'argia che possedeva la vittima per poi chiederle gentilmente di andare via e di far guarire l'argiato. In molte formule come quella anche che ti ho letto in apertura si riscontra la presenza di un elogio iniziale dell'argia, di una sua maledizione, di una sua invocazione, di una sua richiesta di allontanamento, in alcuni casi vengono riportati anche veri e propri corteggiamenti rivolti al ragno stesso. Un aspetto da tener a mente è che durante le danze, fatte principalmente da donne, venivano meno i tabù e le limitazioni sociali, tanto che i balli frenetici e movimentati avevano una funzione di liberazione femminile, con oscenità verbali e mimiche non tollerate nella vita quotidiana. Inoltre vi erano elementi destabilizzanti per una società agropastorale che miravano a sovvertire l'ordine prestabilito. Oltre ai balli frenetici a questa liberazione femminile, pensiamo anche al travestimento dell'argiato con abiti e mimiche attribuiti al sesso opposto. Si creavano così veri e propri contrasti, il riso e il pianto, la malattia e la salute, la gioia e il dolore, il lecito e lo scandaloso. Il ballo rituale dell'argia è stato oggetto di studi e ricostruzioni antropologiche. Ti cito qui il più importante, condotto da Clara Gallini, pubblicato nel 1988 e intitolato La ballerina variopinta. I rituali della Sardegna contro l'attacco dell'argia rientravano nell'insieme di eventi folkloristici diffusi in area mediterranea come il famoso tarantismo pugliese, quello spagnolo, e alcuni rituali africani, ad esempio lo janon tunisino e lo zare egiziano. Il morso del ragno era spesso un pretesto, un simbolo, per giustificare uno stato di malessere e per far iniziare tutta una serie di rituali simbolico-religiosi e magici che attraverso musiche, balli, colori e travestimenti avevano il compito di reintegrare individui all'interno del tessuto sociale. Musiche e balli, riso e pianto, malattie e guarigione, allegria e tristezza si fondono in questo rito misterioso, ancora non del tutto compreso perché, come tutte le cose che riguardano la Sardegna, anche il rituale dell'argia si perde nella notte di tempi, rendendoci incerte le ricostruzioni e la comprensione chiara di tutti i simboli evocati. Ma ci sono tante altre storie che ci aspettano. Grazie per aver ascoltato questo Contus de Forredda. Per supportare, conoscere e scoprire il podcast, puoi visitare il sito fusticale.com slash contusdeforredda podcast oppure puoi seguire il profilo Instagram contusdeforredda. Per questo episodio mi fermo qui, ma ti aspetto vicino al fuoco per un'altra